Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono il Casi e oggi vi andrò a mostrare come cambiare nome al vostro canale YouTube. Vi mostrerò come cambiare nome sia da computer che da cellulare, cominciando da computer. Vi lascio da qualche parte il minutaggio per vedere come si cambia da cellulare. Cominciamo subito, intanto richiamoci su YouTube e in alto a destra abbiamo l'icona del nostro profilo, ci clicchiamo sopra. Esce questa tendina e noi andiamo su impostazioni. Una volta su impostazioni dovremo andare su modifica Google, quindi ci porterà su questa pagina di Google. Ci chiederà come cambiare il nome, io ad esempio cambierò il nome in tastiera, che ne so, tastiera, tastiera. E lo salviamo. Tastiera, visualizza come, vedi voi dovete scegliere questo, tastiera, tastiera casi, insomma scegliete un pochino. E tornando indietro vedrete che sarà cambiato. Infatti aprendo YouTube il nostro nome sarà diventato tastiera. Per cellulari la storia è un po' diversa. Infatti se andremo su YouTube, come vedete, cliccando su impostazioni non sarà possibile cambiare il proprio nome, anche andando su generali. Infatti dovremo recarci su Google. Su Google in alto a destra avremo il nostro account. Cliccando su gestisce account Google ci si apriranno delle impostazioni. Ecco, andando su informazioni personali potremo cambiare il nome, quindi da lì vi basterà cambiare il nome e poi cliccare su fine. Beh che dire ragazzi, abbastanza semplice, però un po' articolato. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così è stato lasciate un like, commentate con un qualsiasi video che potrei portare, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti ragazzi. Ciao.